La truffa è truffa, non c'è dubbio, però ancora vanno le cose per le lunghe, mentre per fare un decreto ci hanno messo 5 minuti per azzerare migliaia di persone, ci hanno messo 5 minuti. In aula l'ex direttore generale di Banca Etruria Luca Bronchi, fuori dal Palazzo di Giustizia invece una delegazione degli azzerati dell'Istituto di Credito. Questa mattina ad Arezzo è infatti andata in scena una nuova protesta dei risparmiatori dell'Associazione Vittime del Salvabanche, proprio nel giorno in cui si è tornati in aula per una nuova udienza del processo per la bancarotta di Banca Etruria. E' stato nuovamente il giorno dell'ex direttore generale che ha optato per il rito abbreviato e che si è nuovamente sottoposto all'esame rispondendo alle domande degli avvocati difensori. Siamo in attesa di sapere anche l'epilogo, intanto un ulteriore passo e sperando che a settembre almeno questo filone si possa chiudere. Cosa vi aspettate adesso? Per quanto riguarda la giustizia ci aspettiamo non tanto a dire la verità, speriamo è lunga, quello che ci aspettiamo è un'altra cosa, che il governo che si è insegnato adesso è venuto ad Arezzo attraverso i suoi migliori rappresentanti nell'anno precedente, tre volte a garantirci che i nostri rimborsi saranno stati completati, rivisti e quant'altro, adesso hanno fatto anche i sottosegretari e ci aspettiamo che sia ripresa in mano la pratica per definire e completare una volta per tutte quello che è stata l'ingiustizia che andrebbe in effetti definita. Una delegazione di risparmiatori è stata infine ricevuta dal procuratore della Repubblica di Arezzo Roberto Rossi che ha ascoltato le istanze e rassicurato sui tempi dei processi e l'impegno della procura. Ci ha assicurato che entro settembre intanto per quelli che hanno chiesto il rito abbreviato dovrebbe finire e terminare il processo e già questa sarebbe una buona notizia.